galattici amici ma soprattutto galattiche amiche bentornati qui con noi alle news galattiche sono sempre qui col sempre numero 2 del nostro canale il buon paesiello in chi anno siamo? sempre 2018 siamo sempre 2018 non è cambiato quest'anno è golosissimo sai cosa succede il 13 maggio di quest'anno? cosa succede il 13 maggio di quest'anno? c'è un evento galattico un torneo galattico il nostro torneo galattico c'è il torneo galattico dov'è il nostro torneo galattico vediamo se sei preparato a Varese a Varese dove? in via Rossini presso la ludoteca team one di Varese e in questo caso organizzato supportato dai nostri amici Baostardi sempre di Varese che salutiamo ciao Baostardi e come funziona il torneo? adesso sei qua per questo poi non mi resti numero 1 mi finisci numero 2 poi numero 3 mi devi dire ad esempio che il torneo è a 1500 punti che il torneo è di Aos non mi viene preparato il ragazzo ma soprattutto soprattutto è un torneo fantastico dove troverete tutti i modelli dipinti non è che li troverete lì dovete portare dipinti altrimenti se non avete almeno il 3 colore di base non potete partecipare più la basetta fatta mi raccomando sapete perché? perché ci sarà un golosissimo premio per la pittura ci sarà un golosissimo premio per la pittura ci sarà una giuria della pittura ci saremo noi del canale della guida galattica per modellisti quindi ci potrete conoscere e potrete sfidare colombino comunque prendo la botte tranquillamente potete trattare male il paesiello che tanto ormai non siamo no io sono protetto voglio dire il WWF sì sì c'è ancora il WWF in quest'anno? penso di sì incredibile c'è ancora il rosso bianco ma soprattutto si sta dimenticando un'altra cosa in questo torneo non si può passare attraverso gli alberi esatto gli alberi rimangono attaccati alle basette possono essere rimossi ma non puoi passare attraverso l'albero rimosso comunque non si rimuove l'albero io quindi non rimuoverei l'albero sicuramente come torneo in ogni caso 13 maggio Varese per maggiori informazioni link qui sotto a presto galattici ciao 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 ciao